Coltivare il peperoncino non è molto semplice perché richiede molte cure, ma niente è impossibile. Iniziamo estraendo la pianta dal vaso e con una leggera pressione apriamo il nido di radici sul fondo. In questo modo sarà più facile per la pianta attecchire al terreno nuovo. Prendiamo ora un vaso di dimensioni medie e versiamo prima uno strato di argilla di circa 2 cm per favorire il drenaggio e poi riempiamo con del semplice terriccio universale. Facciamo aderire per bene la pianta al terreno e ricopriamo con altra terra. Grazie a tutti. Per propagare la nostra pianta iniziamo da dei peperoncini essiccati. Apriamoli e estraiamoli tutti i semini che ci sono all'interno. A questo punto prendiamo una banana matura e tagliamo la fettina. In ogni fettina di banana cerchiamo di inserire almeno 3 semini di peperoncino. Ora prendiamo il cartone di un rotolo di carta igienica e creiamo il nostro vasetto biodegradabile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.